Decine di sopralluoghi, presidi e appostamenti dal centro alla periferia. Anche nel mese di dicembre 2022 è stata molto intensa l'attività contro l'abbandono dei rifiuti nella città di Cagliari. Attraverso azioni congiunte la polizia locale e il servizio di igiene del suolo con l'ausilio di telecamere e di privati cittadini che collaborano attivamente per scoraggiare e bell'educazione in civiltà anche i responsabili degli abbandoni nel largo Carlo Felice, al mercato Isbingias, via Le Calamosca, via Dante, Corso e Vittorio Emanuele II, via Angioi, via Goldoni, via Pontano, via Tomaseo, via Santa Maria Chiara e via Castiglione sono stati individuati e sanzionati. Tanti gli accertamenti sulle utenze così come le verifiche sui mastelli danneggiati esposti fuori dall'orario consentito e associati a utenze domestiche utilizzate da parte di attività commerciali e viceversa. Inoltre diversi verbali di contestazione formulati per omessa pulizia di marciapiedi, aiuole, strade ed aree verdi cittadine di deiezioni del proprio animale e per conferimento di rifiuti domestici o provenienti da attività commerciali all'interno dei cestini giattacarte o in prossimità di bander e di contenitori per gli indumenti usati. Giova infatti rammentare che negli oltre mille cestini dislocati in tutta la città di Cagliari possono essere gettati soltanto piccoli rifiuti da passeggio. Pertanto chi conferisce dentro o vicino ai cosiddetti giattacarte è multabile alla stregua di chi abbandona.